ciao ragazzi non vi dico niente perché avete l'esperienza anche voi sai cosa stiamo facendo pace 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 e meglio di così non si può andare agli spartani quelli che capiscono spiega come si evolve qua la cosa si evolve con fontina morgonzola salame fatto in casa il pane fatto in casa il vino no al vino è sempre buoni quello buono e vedi che c'è il tappo non so chi ce l'ha dato però è vino buono ok ma che cazzo vogliamo di più ma che ce ne fotte come dicono nei paesi scandinavi il fuoco il migliore amico dell'uomo la compagnia è buona il mangiare è buono qua c'è lo zio indiano e dio che la mandi buono a tutti a tutti meno uno meno uno ragazzi noi ci facciamo la nostra seratina qua in tranquillità fatevela buona ciao a tutti ciao ciao